Buongiorno amiche, buon primo dell'anno, quindi buon anno nuovo. Siamo adesso nel 2023, volevo intanto ringraziare tutte quante voi che mi avete seguito, supportato, commentato e spero che continuerete a farlo anche nel 2023. E spero appunto che stiate tutti bene, in salute, sereni, che questa è veramente la prima cosa che ci aiuta a vivere meglio. Allora, in questo video è un video share, sapete che ho il negozio Etsy, che io sono una creatrice digitale, mi piace anche utilizzare la mia carta per i miei lavori, tutorial, eccetera. E adesso, quando appunto avrò più tempo, creerò nuovi progetti, nuovi tutorial, in modo da ispirarvi sempre di più a utilizzare anche la mia carta. Ci tenevo a presentare due kit, due kit che sono nuovi nel mio negozio, che con il frambusto natalizio, con tutti i progetti natalizi, le carte che sono girate dappertutto, ovviamente non sono stati presentati diciamo a dovere. Ci tengo perché secondo me sono molto belli. Allora, uno è il kit Stamp Punk e l'altro è l'ultimo kit che ho creato, l'ultimo kit del 2022. Quindi l'ultimo kit ispirato alla natura, perché comunque la natura ci aiuta a creare, a essere più ispirati, a rinvigorire noi stessi, a essere più tranquilli. Cioè, noi abbiamo comunque bisogno della natura, del silenzio, di vedere gli animali, il verde, le piante, i fiori, eccetera. Cioè, proprio, soprattutto chi ama creare, chi ama progettare, chi ama appunto chi è così ispirato anche al papercraft, al junk journal, è immancabile questa parte. Allora, intanto, li ho messi qua apposta, li ho stampati per far vedere, perché i miei kit sono sempre, io cerco di crearli e di farli in alta risoluzione. Allora, il primo kit che vi presento è questo, il kit appunto ispirato alla natura. Adesso vi faccio vedere questo bellissimo kit, perché merita. Secondo me dovete, diciamo, guardarvelo bene, farci un pensiero di passare nel mio negozio, perché se riesco a toglierlo dalla cartellina, sì. Allora, perché comunque penso che, appunto, sia un bel kit e possa essere utile. Allora, intanto, inizio con un foglio in background, dove potete vedere ci sono vari quadrati che sono, appunto, ispirati alla carta da parati. Credo che questi sono, sono carta da parati che ho preso di Morrison, che sono free e io li ho riproposti nel mio collage, perché ci stava bene. Poi comunque mi piacciono molto questi abbinamenti di colori e questi quadrati si possono utilizzare sia così come foglio di un giornale, oppure ritagliarvi le farfalline. Questi pezzi potete utilizzarli come volete nelle vostre creazioni di carta. Insomma, anche un semplice foglio come questo può dare tante possibilità creative. L'importante è che vi piaccia, cioè che vi stimoli. Allora, poi, vabbè, adesso mi fa vedere direttamente le buste, due buste che comunque servono sempre. Queste due buste sono particolari perché comunque sono un po' lavorate qua. Questa è una parte di un mio collage che ho riprodotto nella busta e questa è sempre una carta da parati, un po' vittoriana, come vogliamo chiamarlo, un po' sui toni sul verdone scuro, quasi nero. È molto bella e comunque può essere sempre quel tocco in più che dà l'eleganza anche alla vostra creazione, al vostro giornale, oppure se volete anche regalare semplicemente una bustina con un biglietto. Ho creato anche delle card che volendo si possono anche far rientrare qui, dovete tagliarle ovviamente a misura o altrimenti utilizzarle proprio come semplici card in un journal, come anche delle card oppure delle tasche per mettere appunto le tag che sono queste, come vedete, e quindi ci starebbero anche bene come le tasche con le tag. Le card sono molto carine, anche qui sono delle card semplici che poi sono state messe in rilievo con della carta da parati e ho aggiunto appunto questi, diciamo, elementi naturali come gli uccelli, le piante, le foglie, le farfalle che mi piacciono molto. Nei kit digitali le farfalle mi piacciono molto, mi piacciono molto anche gli uccellini. È molto molto naturale questo kit, quindi a chi piace la natura o chi vuole fare un giornale, diciamo, botanico o comunque un giornale dove c'è molta roba naturale oppure che si ispiri appunto ai fiori, alla natura, questo è molto bello. Poi ho fatto, ho creato delle tag che sono, non sono altro che delle tag riprese dai miei collage che ho fatto. Io sapete che amo creare collage, è la mia passione più grande, spero di specializzarmi sempre di più. Io sono un'autodidatta, lo specifico, non ho mai fatto una scuola e tutto quello che vedete è frutto di quello che metto appunto io. Dalle immagini che scelgo, dagli accostamenti, dai colori, dalla mia creatività, dalla mia fantasia, creo questi collage. Normalmente ho iniziato a creare i collage manuali, poi mi sono specializzata nei collage digitali e questo mi riempie molto l'anima, il cuore, mi fa sentir bene. E spero appunto di trasmettere tramite i miei collage la mia creatività. E niente, quindi volevo dire appunto questo, lo volevo precisare che sono un'autodidatta e non ho mai fatto una scuola specifica, quindi diciamo che ho questa cosa, diciamo che mi viene da dentro, naturale. Ho creato poi un gruppo di ephemera, anche sempre, anche le tag sono ephemera, però questo è molto carino, ci sono due strip che potete utilizzare sia come belly band che come washi tape, o come meglio credete insomma all'interno dei vostri giornali, io ho messo anche dei tutorial di come si possono utilizzare gli strip o comunque piuttosto che i francobolli, potete mettere anche un pizzo, insomma creerò delle cose anche un po' su questo foglio con dei pizzi, dei merletti perché ultimamente ho acquistato dei pizzi nuovi e quindi utilizzerò diciamo queste per creare qualcosa che possa essere diciamo di ispirazione, ecco, in modo da avere più idee per utilizzare, perché comunque tante tante idee, quindi tante teste sono meglio di una e io amo condividere. Poi ci sono questi due fogli, come vedete, molto belli, guardate anche come sono anche il colore, cioè io voglio puntualizzare sulla nitidezza delle immagini, perché comunque meritano, e niente, e se pensate che lo faccio semplicemente con degli strumenti che tutti abbiamo a casa, perché è una semplice stampante HP familiare, non professionale, e la carta che ho usato per stampare è una carta plus color dell'HP, una carta che tiene il colore un po' liscia e da 120 grammi, però tutti i miei stampabili possono essere anche stampati in carta più grossa o in, per esempio, questo in carta adesiva, anche se volete ritagliarveli direttamente, volete utilizzarli con la carta adesiva da stampante, che io ho, ma li ho stampati con la carta normale, potete utilizzare carta anche da 250 grammi, da 300 grammi, insomma, ovviamente valutate che ogni stampante ha i suoi parametri, quindi anche i colori potrebbero leggermente variare, però più o meno sono questi, io cerco di dare sempre quel colore che dovrebbe più o meno risultare a tutti, ovviamente l'inchiostro ci deve essere all'interno della stampante, perché se sta finendo da quell'idea di magenta, di violetto, vuol dire che l'inchiostro sta finendo, ecco, questo è con gli uccelli, molto bello, con questo uccello che mi piace molto, poi le hortensie che mi piacciono molto, questi fiori sul blu, questi colori un po' vintage, french blu, con il, appunto, con questi fiori, con questo bellissimo colore, anche l'uccello, come vedete anche qua sul marrone che ho ripreso, è sempre questi colori un po' che a me piacciono molto, questo è molto carino, perché questo potete utilizzarlo, anche, vedete, come, come parte di un journal, potete, appunto, potete stampare fronte e retro, magari il background, che ho messo all'inizio, con le farfalle, e utilizzarlo, come meglio credete. Qua veniamo alla parte che a me è piaciuta di più fare, perché questa è proprio la parte in cui io ho lavorato tantissimo, e sono i miei collage, allora, questo è un collage, dove ho messo, sempre riprendo, uccellini, cornice, come vedete è molto particolareggiato, potete, sia utilizzarlo così, anche come copertina, perché ho fatto questa specie di bandage, oppure potete ritagliare i vari pezzi, quelli che vi interessano, potete utilizzarli anche in questo modo, potete utilizzare solo un foglio, anche per quei journal che sono stretti, diciamo. A me è piaciuto molto crearli, perché questo è proprio il mio stile vintage, questo stile vintage un po' non troppo accentuato, non proprio molto dark, perché mi piacciono molto anche i colori, gli inserimenti di uccellini, farfalline, piuttosto che alberelli, anche bambine o personaggi, mi piace molto, ecco, giocare su questi effetti qua. E poi ovviamente tutti questi pezzi d'epoca, insomma, cartoline d'epoca, che sono molto carine. Questo è un secondo foglio, dove ci sono due collage separati, che non è come la parte grande, dove c'è il bandage, però qua anche potete utilizzarlo, se volete, come copertina. Non è uguale, se avete una copertina dura di un vecchio libro e volete fare una bella copertina, ecco, allora, per esempio, queste due parti, oppure all'interno di un journal, le parti della copertina sono molto belle. Qua c'è la cicogna, che è un uccello che mi piace molto, sempre le farfalline, numeri, fiori, fiori, franco bolli, pezzi di vecchi collage che ho fatto io, ritagliati, insomma, con lo sfondo, anche molto bello, che ho creato, come potete vedere, anche l'elemento cinese, che è immancabile, questi fiori tipo cherry blossom, che io li adoro, per cui, riprende un po' tutto quello che sono io. L'ultimo foglio, per concludere, di questo kit, anche un foglio, diciamo, l'altro foglio, il gemello di questo, che però, in questo caso, ha il pavone, sempre con degli elementi orange, farfalle, l'elemento blu, con il marrone, che mi piace molto abbinare, l'uccellino, con la corona messa apposta, ci sono tanti elementi, che a me sono molto piaciuti, e mi è piaciuto, appunto, creare con questo, creare questo kit, cioè a me, questo kit, è piaciuto tantissimo, crearlo, e ho pensato, che poteva piacere a tante di voi, che magari stanno cercando qualcosa ispirato alla natura, io so che comunque siamo tantissime a creare digitali, tra l'altro ci sono anche tante persone, che li offrono anche gratuitamente, però devo specificare che ognuna di noi, comunque ci mette molto del suo, ci mette il suo tempo, ci mette la sua arte, la sua creatività, il suo cuore, le sue emozioni all'interno dei fogli, quindi consiglio a tutte, di dare uno sguardo un po' in generale, anche ai miei, e di passare nel mio negozio, perché comunque, il supporto motivazionale, e anche un semplice cuoricino, per supportare il mio negozio, è sempre gradito, allora questo è il primo kit, che vi volevo presentare, e allora, avevo creato anche sempre di questo kit, questo foglio, che sono due card, avevo intenzione, di metterlo all'interno di questo kit, e più o meno riprende, però poi alla fine, ci ho pensato, e questo l'ho lasciato da parte, e niente, quindi questo, questo foglio qua, lo troverete come omaggio, come freebie, nel mio, nel mio, nel mio canale di Ko-fi, lo metterò a breve, nel mio canale di Ko-fi, e lo troverete, troverete il link, per scaricarlo, il link del mio Ko-fi, nella descrizione, del video di YouTube, che sto facendo, è carino, riprende un po', quello che c'è all'interno, così vi potete fare un'idea, e al limite, potete appunto comprare, l'intero kit, questo è un omaggio, che ho creato apposta, e quindi spero, che vi faccia cosa gradita, ecco, vi ricordo appunto, che io ho anche questo canale Ko-fi, che se mi volete supportare, in modo da, da rendermi possibile, di continuare a, creare, di tenere avanti, diciamo, il canale di YouTube, di prendermi il tempo, eccetera, questo mi, mi farebbe molto piacere, allora, il secondo, il secondo kit, che vi volevo presentare, è questo, dello Stamp Punk, questo kit, ha un valore molto speciale, per me, perché io, è il primo, in assoluto, il primo kit, che ho fatto, con questo tipo di arte, diciamo, lo Stamp Punk, cioè mi sono avvicinata, a questo tipo di, di creazione, con, io ero completamente, diciamo, spartana, in questo senso qua, e, ho voluto appunto, cimentarmi, a creare anche, un qualcosa, di questo genere, questo genere, non, non era il mio genere, però l'ho fatto diventare, il mio genere, perché, ho creato, un kit, eh, Stamp Punk, che però, avesse, gli elementi, eh, che, riprendono, i miei collage, quindi, se voi andate a vedere, i miei collage, nel negozio, come quello, il Titanic, quello, l'Oriente Express, o altri, del genere, potete vedere, che comunque, eh, si avvicinano, come, come, come modalità, di creazione, allora, anche qua, ogni elemento, è stato, è stato, ricercato accuratamente, eh, ed è stato, inserito, con, seguendo, eh, uno schema, diciamo, più o meno logico, la mia logica, la mia logica creativa, allora, questo, è ispirato, diciamo, alla luna, ai sogni, ai pensieri, a, a tutto ciò, che ci, che ci passa, per la testa, ai sogni, eh, al guardare lontano, sapete, che a me piacciono, anche le carte, i tarocchi, eh, e quindi, lo interpreto, come se fosse una carta, e questa, è molto positiva, perché, ci dà, positività, ci dà, la capacità, di sognare, di continuare a sognare, di sperare, vedete tutto questo oro, che ho messo intorno, eh, l'uomo che guarda col binocolo, la donna sognante, ecco, mh, come potete vedere, è molto, è molto particolareggiato, sembra quasi un quadro, sarebbe un peccato, anche tagliarlo, quindi, ognuno, può poi decidere, di, di, di fare quello che vuole, di questi, potrebbero essere anche dei quadri, o farseli a stampe, mh, ricrearseli, nelle, eh, nei tovagliolini di carta, perché c'è un tutorial, sui tovagliolini di carta, e quindi questo è molto, molto bello, poi, eh, il secondo foglio, è questo, ispirato ai viaggi, eh, ogni singolo elemento, l'ho, l'ho creato io, tipo l'occhiale, nel viso di questa donna, il cappellino, i fiori, eh, il fiocco, l'orologio, il quadro con il, con la data, cioè ogni singolo elemento, è stato messo, appunto, da me, non ho trovato la figura, e l'ho appiccicata, questo ci tengo a dirlo, perché magari certi dicono, eh, ma cosa ci vuole a farlo, mentre invece ci vuole, eh, perlomeno per me, magari c'è gente che è velocissima, però io, ci metto un po', perché, cerco un pochettino, di creare un po', la quadra di tutto, e questo è ispirato ai viaggi, poi abbiamo un secondo, che è ispirato a, un po' fantasy, un po', un po' fantasy, ecco lo vedo un po' così, con le molgolfiere, che le adoro, eh, anche qua la donna, eh, il vestito che è fatto, che fa, che è ricercato appositamente, la faccia della donna, che è una faccia di una donna, eh, di un dipinto dell'ottocento, io ho preso solo il viso, poi ho aggiunto il cappello, ho aggiunto tutto lo sfondo, le molgolfiere, insomma, mh, come vedete, è un lavoro molto particolareggiato, spero che piaccia, c'è anche la farfallina meccanica, insomma, eh, spero di, di avere, di avere, di aver portato onore allo stamp punk, al genere stamp punk, perché comunque non era il mio genere, ed è il primo kit in assoluto, in cui io mi sono cimentata, a fare, eh, questo anche, molto sognante, eh, molto romantico, questo lo vedo molto romantico, scusate, e volevo precisare che, questo viso, eh, è un viso che, eh, che ho ritrovato, di, di una modella, eh, e io l'ho utilizzato, una modella del, degli anni venti, e l'ho, eh, che era in bianco e nero, l'ho utilizzato come sfondo diviso, poi io ho aggiunto gli occhiali, e tutta questa composizione di fiori, nella testa di questo, di questa testa, diciamo, di modella, l'ho creata io, fiore per fiore, farfallina, eh, e come vedete, c'è un lavoro certosino, perché comunque, non è che tu appiccichi un fiore, e lo lasci là, no, c'è tutto un lavoro, diciamo, da fare, ecco, non è, io sto dicendo tutto questo, perché voglio che la gente capisca, il lavoro che c'è dietro, anche per fare, eh, questi digitali, magari, eh, non per tutti è così, però, io, veramente, mh, quando creo un collagio, è un lavoro certosino, non è un lavoro buttato, giusto per, eh, e quindi è un lavoro pensato, è un lavoro valutato, ed è un lavoro dove io, ci investo il mio tempo, la mia creatività, il mio amore, la mia passione, per, per le immagini, per i colori, per gli accostamenti, quindi spero che questo si capisca, io voglio che arrivi proprio questo, che vi arrivi, questo impatto, eh, creativo, e questo come ultimo, che poi è stato il primo, che ho creato, di questi cinque fogli, e questo è ispirato un po' a tutto, ai sogni, ai viaggi, alle speranze, a, agli orari, alla vita che scorre, vedete tanti orologi, al tempo che, che va, e che viene, e, tutto ciò che, che c'è all'interno di noi stessi, della nostra mente, anche qua, molto, sempre gli elementi un po', fioriti, perché comunque, nei miei collage, non devono mai mancare, come vedete, li ho fatti molto anche, è un stem punk particolare, abbastanza, diciamo, a collage un po' colorato, non è quello stem punk, eh, grigio, scuro, marrone, insomma, eh, molto tetro, mh, quello stem punk dark, questo è uno stem punk un po' divertito, un po', un po' inusuale, diciamo, quindi spero che questo, possa attirare, eh, anche la vostra attenzione, con questo io ho finito, di presentarvi, questi kit, spero che youtube, metta, i, i sottotitoli, eh, vi ricordo, eh, questo foglio, che lo trovate, come freebie, eh, metterò il link, eh, nel mio, nelle descrizioni, eh, e anche nel titolo, così sapete, eh, che comunque, eh, ci sono questi freebie, vi ricordo che c'ho anche la playlist freebie, alla voce freebie, e lì troverete altri freebie, per chi è interessato, e magari così si può avvicinare, ai miei digitali, e può vedere anche come lavoro, eh, e niente, con questo, eh, vi saluto, vi rimando al prossimo video, che spero di creare un video, eh, creativo, anche perché mi sono comprata la tavoletta della, della jelly print, che ce l'ho qua, adesso ve la mostro, e spero a breve di avere il tempo, scusate, spero a breve di avere il tempo di, di iniziare con questa tavoletta, perché sono molto curiosa, di creare con questa tavoletta, che ho comprato anche il, la rotellina, eh, e sono molto curiosa, voglio vedere cosa ne esce fuori, e magari se, se mi piace, che cosa creo, posso anche inserirlo nel negozio, come fogli background, artistici, che ho fatto io, vorrei, vorrei cercare di creare un kit, mix media, perché mi manca, eh, con questo vi saluto, vi rimando, al mio prossimo video, grazie ancora, di sostenermi, di supportarmi, grazie per quest'anno passato insieme, eh, e vi ringrazio già, per il 2023, spero che continuerete, a seguirmi, eh, e spero di crescere, ancora, di aumentare, eh, anche i miei numeri, perché sono importanti, i numeri, non si può essere, eh, diciamo, chiudere gli occhi su questo, e far finta di niente, i numeri sono molto importanti, in tutte le carriere, sono importanti, e anche nella, nella creatività, significa che, eh, se ci sono i numeri, vuol dire che tu piaci, che la gente è interessata, a quello che fai, per tutte le cose, è così, quindi, vi ringrazio, e vi saluto, a presto, ciao, ciao a tutti, ciao, da Daniela, da Lily Fee, di Paper Witch, ciao,